Salve a tutti e benvenuti ad una nuova puntata del Podcast Novus. Oggi vi presentiamo una puntata pre-registrata ad ospite Barbuta Lorelai, una studentessa della nostra scuola. Allo stesso modo vi presentiamo un nuovo modo di registrazione per fare le puntate, ovvero un'intervista singola, quindi chiaramente fatta da un singolo conduttore. Lorelai sarà appunto la nostra cavia e ospite di questo grandissimo scempio. Quindi vi lasciamo alla puntata e buona visione. Lorelai, presentati perché sei qua, perché ti abbiamo invitato fondamentalmente, che forse lo dovrei dire io, ma comunque la cosa che ti ha fatto essere l'invitata di oggi, insomma? Allora, principalmente io pratico uno sport, il ballo di coppia praticamente, precisamente le danze standard, cioè le danze di sala, a livello internazionale e nazionale, che praticamente comprendono le gare all'estero appunto. Vediamo il nostro ospite, è un po' in soggezione, ci sta, è normale soprattutto quando Francesco Francesco non c'è, di solito Francesco mette ancora più a disagio, anzi salutiamo ancora Francesco. No, comunque, Lorelai tu sei una studentessa del pertini della nostra scuola del linguistico, giusto? Che anno stai? Terzo. In terzo anno, perfetto. Che classe frequenti? Terzo G. Ok, però non te lo ricordavi. Stavo pensando al che significa, c'hai capito? Ah sì, certo, che classe fai insomma. Quindi, insomma, quello che tu vai a fare, iniziamo anzi, iniziamo subito con la prima domanda, comunque tu fai un qualcosa di importante, nel senso che ti va a prendere molto tempo. Quello che fai, lo possiamo definire come uno sport? perché molte persone hanno come sport la concezione di, esclusivamente, sport di squadra, quindi quelli che sono il calcio, la pallavolo, eccetera, eccetera. Anche gli sport singoli, quindi in questo caso, come tanti altri, ma il tuo, che poi è anche una passione, immagino, se la fai, da quanto la fai? Otto anni. Ecco, appunto, se lo fai da otto anni, immagino che sia una passione comunque molto presente in te, appunto. Come lo classificheresti, quindi? Come uno sport, più come un hobby? Cioè, sto cercando un attimo di farti descrivere al meglio quello che poi è quello che ti piace, no? Quindi come lo descriveresti? Allora, all'inizio può partire molto semplicemente come un hobby. Poi, ovviamente, salendo di categorie e andando avanti con le competizioni, diventa un lavoro. Perché a volte, per esempio, nelle competizioni, se tu fai un determinato risultato, loro possono molto semplicemente darti dei soldi. Perché tu hai vinto questa competizione e loro ti danno i soldi. Ok, tipo come delegare, insomma. Ok. Ma un lavoro, quindi, tu lo stai intendendo in questo senso dal punto di vista di retribuzione, quindi dal fatto che vieni pagata poi fondamentalmente, o cioè pagata, nel senso facendo delegare, poi tu vinci, come hai detto te, dei premi che possono essere appunto in soldi. Ma un lavoro anche dal punto di vista della responsabilità, cioè effettivamente, ora a parte immagino le prove e quant'altro. È pesante magari a volte avere sulle spalle la consapevolezza che comunque stai facendo questo tipo di sport, passione, hobby a livello anche internazionale? Sì. Ovviamente comunque richiede tantissimo tempo. Quindi io, per esempio, molte volte non esco perché il giorno dopo devo allenarmi, oppure una competizione, oppure sto in un periodo di gara e non posso, diciamo, uscire un tot di tempo. Certo. Non puoi sforare. Esatto. Cioè, dilimita tantissime cose. Cose che comunque per gli adolescenti sono normali da fare e io non ho fatto. Sì, però comunque, ecco, magari questo è un tema che in realtà volevo trattare, perché io non faccio nessuno sport a livello agonistico, si dice, giusto? Ok. Vabbè, però per scelta mia in realtà. Però comunque facendo tante attività, e non è un vanto assolutamente, comunque mi trovo pur io molto spesso nella situazione tua, cioè nel senso che molte volte non posso uscire o non posso fare determinate cose che in realtà magari per la mia età dovrebbe essere normale fare, perché magari ho già delle responsabilità, come nel caso tuo. Tu come la vivi questa cosa? Perché raccontandoti dall'esperienza mia personale, io la vivo bene. Nel senso che comunque mi piace quello che faccio e mi piace arrogarmi queste responsabilità. Ma tu vorresti che fosse diverso? Allora, io la vivo malissimo. La vivi male? Sì, specialmente tipo in questo periodo. Perché, cioè, mi sento limitata moltissimo. Ok. Comprendo che comunque è uno sport e ha bisogno di impegno, di responsabilità e tutto. Però allo stesso tempo vorrei anche fare una vita normale, se si può dire. Cioè, quel uscire lo vorrei fare. Un po' più spesso magari. Certo. Sì. Capisco. Quindi, poi ovviamente sicuramente è anche una cosa dovuta ai miei. Cioè, i miei investono tantissimi soldi. Tantissimi. Cioè, un vestito mio costa da 2000 in su. Quindi ovviamente è anche una loro responsabilità non farmi uscire più di tanto. Perché se io esco, un giorno potrei molto semplicemente dire, ok, basta, smetto di ballare perché mi sono stufata, voglio fare la vita normale. E in quel momento alla fine perdo sia io ma anche loro. Certo. Perché comunque se loro ti lasciano magari uscire o fare delle cose che magari non ti puoi permettere, poi è un po' vano anche magari il sacrificio che fanno loro. Cioè, questo è quello che pensi. Però secondo me, dall'altro punto di vista, è vero sì che comunque da parte dei tuoi o comunque da un qualsivoglia sia tutore, c'è una responsabilità anche da parte loro, oltre che tua. Però comunque si sta parlando di te, giustamente, no? Quindi, diciamo, l'altra domanda è, la stai vivendo in questo periodo, mi pare di capire, più come se fosse una cosa tua o più come se fosse una cosa che devi. Quindi ti trovi troppo disciplinato o hai ancora comunque quella passione di fare quello che fai? Allora. Eh, domanda tosta. Tantissimo. Allora, questo periodo perché l'ho detto? Perché ovviamente è un'età, è proprio un periodo della vita in cui vuoi scoprire cose. Ovviamente la passione c'è ancora, sicuramente. Solo che molte volte penso, però... A volte staccare potrebbe... Sì. Solo che poi sicuramente se stacco, me ne pento. Perché in fondo, alla fine, è quello che voglio fare. Cioè, io da questo sport voglio tirarne fuori proprio un lavoro. Cioè, voglio proprio lavorare in questo campo. Quindi sì, ok, lo penso. Forse lasciare non sarebbe male, però allo stesso tempo dico no. Meglio di no. certo. Perché vedi, cioè, riponi più fiducia in questo progetto che nel cercarne altri magari. Sì, sì. Ok, ok. Quindi comunque è una passione che poi va anche a proiettarsi sul futuro. Cioè, tu vorresti fare di questo comunque il tuo lavoro anche più avanti? Oppure hai comunque dei piani B? Allora, il mio piano principale sarebbe questo. Proprio da quando sono piccola. Ovviamente niente è sicuro. C'è molta gente che ha smesso di ballare anche a 24 anni e si è ritrovata senza niente perché non ha fatto l'università e non si ritrova niente adesso. Quello che vorrei fare è un qualsiasi cosa nel campo della moda. Ok. Quindi designer comunque di qualsiasi cosa. Una cosa basata su questo. Noi abbiamo intervistato una ragazza del nostro istituto, seconda puntata se non sbaglio, proprio l'anno scorso, che anche lei ha la passione per la moda, comunque il design dei vestiti. La salutiamo, possiamo salutarla. Sì, salutiamo Miriam Martire, la ragazza che abbiamo intervistato e ti ho fatto questa domanda ammirata, magari forse anche un po' troppo profonda, semplicemente perché io e Francesco, anzi ne stavamo parlando preparando questa puntata, il fatto che noi abbiamo intervistato tantissime persone che, allora, quando noi intervistiamo qualcuno cerchiamo il carattere, cioè cerchiamo chi sta facendo qualcosa e sta dedicando tutto per fare questo. E chiaramente è successo molto spesso, tranne per le puntate cazzaroni che abbiamo fatto come il tennis con Marcello là. Però ecco, stiamo cercando di prendere più punti di vista, perché per esempio ci stanno persone che fanno cose ma che vorrebbero smettere di farle. Cioè magari hanno passioni che vanno a prendere tanto tempo e vorrebbero un po' uscire da questo mondo. Per esempio, in una puntata dell'anno scorso veniva detto anche come Francesco, facendo un percorso di teatro insieme a me, ma ad un certo punto avesse un po' fatica a continuare, no? Però in te non vedo questa cosa, insomma, perché anzi la vuoi trasformare in un lavoro ed è molto lodevole. Ma che insegnamento ne hai tratto da questo? Cioè il fatto che comunque hai dovuto sacrificare ecco tanto del tuo tempo? Oddio, in realtà ora come ora non lo so. Però sicuramente anche il fatto che comunque ho sacrificato molte cose, questo sacrificio mi ha portato a raggiungere questo livello che ho adesso. Quindi soddisfazione alla fine? Certo. Non le posso reputare come perdite di tempo? Ecco, questo è importante. Forse il fatto che comunque il rendersi conto che non è stata una perdita di tempo, già quella è tanto una vittoria. Sì. È importante soprattutto per ogni passione secondo me, che sia una sola o siano di più. Ma già mi aspettavo invece che qualcosa magari, forse devi ancora metabolizzarlo, non lo so, perché poi c'avevo una serie di domande che adesso dovrò cancellare. Da tranquilla, in mente tutto, in mente ovviamente la tecnica Francesco. Però ecco, però cioè quello che voglio dire è comunque quando balli, cioè quando stai là nel momento, nella foga, ecco, fai completamente tabula rasa, quindi non pensi a nulla e ti lasci trasportare o hai un punto fisso? Perché comunque si sta parlando di arte, perché anche il ballo è una forma d'arte. E come le esponi? Allora, dentro di me devo per forza pensare a qualcosa. Devo sempre comunque essere attenta a fare le cose che mi dicono a lezione gli insegnanti. Certo. Quindi la tecnica e tutto quanto. All'esterno, ovviamente spero che, diciamo, emano comunque una sorta di leggerezza come pensiero, capito? Proprio spensieratezza. Quindi l'obiettivo è, in certo senso, allitare lo spettatore, ecco appunto nel ballo. Ecco, già questo però è un punto fondamentale di quello che fai, secondo me. Cioè il fatto che comunque l'obiettivo di quando balli è lasciarti andare forse. Ovviamente immagino, io immagino che sia assolutamente complicato ballare, però soprattutto a livello in cui sei arrivato. E parlando di livello, per cercare di smorsare un po', perché basta, non c'è molto. Parliamo di competizioni e parliamo in particolare la volta, se c'è, in cui proprio ti sono successe tante di quelle cose che hai detto, ecco, oggi va male. Cioè magari, che ne so, hai fatto ritardo ad arrivare alla gara, magari il tuo compagno di ballo di coppia si era fatto male al piede, che ne so. Quindi la volta in cui ti sei, se vuoi dire, cagata sotto. Sì, allora, proprio un giorno mi sono dimenticata delle scarpe di ballo. Cioè, ho visto nero, perché per fortuna c'erano tutti gli stand che comunque vendevano le cose. Però in quel momento mamma arrabbiata, papà arrabbiato. Io ho già agitato dalla gara e tutto quanto, in più, avevo pure questo problema. Ho detto, ok, basta. Come faccio? Non posso ballare. Ci sono successe molte cose. Anche per esempio, tipo in pista, mi si sono sciolti i capelli. Ma però quello, anche se ti distrae, può fare un effetto scenico bello. No, perché i capelli sono tutti laccati, no? Quindi è bruttissimo da vedere. Si vede la coda tutta... Magari dritta, solidificata. Sì, tutta così brutta. Ah beh, quello è un po' il rischio del mestiere, insomma. Hai detto gare internazionali. Quindi tu esci dall'Italia. Sì. Il posto più lontano dove sei andata? Oddio, non te lo so dire. Allora, diciamo che ho appena iniziato a fare gare all'estero. Anche perché c'è stato il periodo della pandemia e tutto quanto che mi ha impedito di fare tante gare all'estero. Sì. Ehm... Non ti so dire, penso Dublino. Dublino. Dublino, sì. Molto bello. Ecco, noi abbiamo fatto un progetto a Dublino. Cioè noi, nel senso, l'aveva proposto la scuola. Vabbè, non c'è nulla. Io ho digressioni di pensiero, ecco. Durante il periodo del Covid quindi in realtà sei stata ferma? No. No? No. Abbiamo fatto video lezioni. Ok. Per la maggior parte teoriche immagino. Sì, sì. Perché pratiche, cioè, proprio a livello... O facili a casa oppure non... Sì. Ovviamente ci davano degli esercizi fisici, quelli che si fanno anche molto semplicemente in palestra, per continuare a tenere allenato il fiato. Ok. Che tipo di esercizi? Sì. Ehm... Sono curioso perché allenandomi più io forse... Tipo chi aveva un giardino, usceva di sotto e correva. Molto easy. Ok, quindi esercizi di... o cardio proprio per resistenza fisica. Sì, sì. Beh, perché giustamente ballando tocca avere tanta resistenza, immagini. tantissima. Beh, è tosto. Sì. Per quanto dura un ballo in genere? Che sia di competizione o no? E... Nelle ga... Cioè, in Italia, un minuto e mezzo. All'estero, perché abbiamo l'orchestra, due minuti. Sembrano... Solo di più. Eh, ma sembrano pochi, eh. Ma sono tantissimi. Tanti e tanti. Ok, ok, capisco. Io ho un amico, non di questa scuola, che balla hip-hop e fa anche breakdance. Il tuo stile di ballo è... Ballo di copia, giustamente. Ma come si chiama proprio il tuo stile? Cioè, chiaramente non è hip-hop, immagino. No. Ok. Perché non lo so. No, no. Standard. Ah, standard. Mi sa l'avevi già detto. Sì. Hai mai provato altri stili di ballo? Latino-americano. Ok. Ma lo fai ancora? Purtroppo no, perché mio ballerino... Ho cambiato il ballerino. Quindi con quello che avevo prima, sì. Ma con questo adesso no, perché ha deciso di fare soltanto una sola disciplina per concentrarsi solo su una e riuscire comunque ad avere più possibilità di... un risultato migliore. Certo. Quindi in un certo senso ti ha limitato quasi. Sì. Ma vorresti tornarlo a fare oppure... Sì. 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 Cioè, preferisco il latino-americano rispetto allo standard. Solo che lo standard l'ho iniziato da piccola. Invece il latino-americano un po' più... sui dieci anni. Quindi eri più grande. Sì. Ok, ok. E magari l'avevi anche un po' più maturata come scelta da fare. Sì. Ok. Ma quando hai iniziato a ballare era stata subito una scelta tua? Anche se comunque eri piccola. Oppure in realtà sono i tuoi genitori magari che t'hanno trasportato e tu poi hai capito che quella era la tua strada? No. Cioè nel senso me l'ha detto mamma. Ok. Perché io ballavo in una scuola di ballo dove facevano i balli di gruppo e c'erano gli insegnanti che facevano questo sport, lo standard. E ogni volta che facevamo un saggio loro si esibivano e mamma ovviamente che capiva di più mi diceva guarda loro quanto sono belli e tutto quanto. Ho detto sì però non mi piace. Mi ha portato a fare qualche lezione e poi da là è proprio mia spontanea volontà. Ok, ok. Quindi comunque ti hanno un po' trasportato ma sei stata tu la proattiva ecco. Cioè hai continuato tu a farlo giustamente. Parliamo del ballo di coppia. Cioè proprio del compagno di ballo. È necessariamente un maschio o può essere una femmina? Allora regolarmente maschio. Cioè un maschio e una femmina. Ok. Poi per esempio nel latino americano ci sono i gruppi. Quindi più ragazze che ballano perché non trovano ballerino quindi si mettono in gruppo e ballano da sole. Nello standard all'estero ci sono anche due femmine che ballano. Ok. Ma due uomini no. Ok. E niente. Cioè principalmente maschio e femmina. Sì certo. E tu chiaramente sei con un ballerino. Sì. Non mi fraintendere con questa domanda. Attenzione. Il rapporto che si crea tra i due ballerini nel senso è un rapporto puramente lavorativo quindi state là fate e basta o c'è un'amicizia c'è una conoscenza. Quindi è un rapporto anche un po' più affettivo per così dire. Allora dipende comunque dalle persone. Cioè io con il primo ballerino che ho avuto non avevo un rapporto di amicizia. Ok. Perché comunque eravamo tutti e due chiusi caratterialmente e quindi parlavamo soltanto di ballo. Ovviamente c'è chi addirittura si sposa. Quindi si danza e non si sposano. Beh poetico. Sì. Esce molto meglio il ballo. C'è più. C'è più sintonia. Esatto. L'unico problema è che comunque ok io mi fidanzo con il mio ballerino. se io ci litigo al di fuori del ballo. Quando mi vado ad allenare sono ancora arrabbiata con lui e quindi va male il ballo. Certo. Per questo non voglio mischiare ballo e vita privata. Ok. Ovviamente sì amicizia tutto quanto però meglio. Ballerini di altre ballerine sì. Insomma quelli con cui non devi lavorare. No infatti volevo andare a parare su questo lato un po' di più. Cioè che sul fatto comunque che è vero che può aiutare magari avere un rapporto d'amicizia col proprio partner di ballo per aumentare comunque magari la performance in generale. Sì. Ok. Però magari non troppo dal punto di vista della relazione come hai detto tu perché poi putacaso succede qualcosa comunque può rovinare tutto il ballo assolutamente. E col ballerino con cui stai adesso c'è un rapporto d'amicizia? Siete entrambi chiusi? Allora lui è un ballerino ucraino. Ok. Venuto con la guerra e vive a casa mia adesso. Quindi vuoi o non vuoi il rapporto di amicizia si crea? Particolare? No particolare anche sta cosa. Ok. Sì siamo amici tutto quanto. Certo. Forse anche un po' portati ad esserlo perché. Vivendo a casa mia comunque viene pure a scuola mia. Quindi. Ah va al linguistico? Sì. Ok ok. 24 ore su 24 insieme. Mamma mia. E vabbè però pure là si crea comunque una bella sintonia. Secondo me là in quel caso è proprio impossibile litigare. Non so se vi è mai successo. Tantissime volte. Ok perfetto. Beh perfetto mi ha smontato tutto. No perché vabbè no in realtà stando insieme tanto. Sì. Quando litigavate dovevate allenarvi? Macello. Non riuscivate? No cioè mi cadeva proprio la voglia di ballare. Non lo volevo neanche toccare perché ero arrabbiata. Madonna brutto. Quindi sì però il problema è ok. Non ballo con te perché sono arrabbiata. Però cosa mi porta? Cioè io domani ho una gara. Non voglio ballare con te perché sono arrabbiata. Non mi voglio allenare oggi con te perché sono arrabbiata. Però domani ho la gara. Come faccio? Certo. Quindi sei obbligato a un attimo fare una pace anche piuttosto civile. I vostri insegnanti cosa ne pensano al riguardo? Cioè nel senso vi hanno mai fatto un discorso sul rapporto che si potrebbe creare tra i due. Magari vi hanno esplicitamente detto ragazzi non conoscetevi troppo in questo senso che se poi litigate succede quello che è successo insomma. Oddio no. Cioè è capitato. Sì sì. Cioè alla fine sei libero di fare quello che vuoi. Non ti impediscono niente. Ovviamente sì potrebbero darti dei consigli. Però non ci hanno mai fatto un discorso preciso. Secondo te quali sono le loro posizioni al riguardo? Partiamo dal fatto che sono fidanzati. Cioè i miei insegnanti sono fidanzati. No sì però non dal dal punto di vista loro però in relazione con voi. Ah in quel senso. Eh non lo so. Quindi sì diciamo lo lasciano un po' implicito. Cioè magari non vi fanno un discorso diretto. Ecco punto. Però sì questi comunque sport di coppia e soprattutto quando succede che ci sono due persone di sesso opposto comunque possono creare delle dinamiche particolari. Chiaramente abbiamo appena parlato. Domanda scomoda. Hai mai pensato di cambiare il tuo attuale ballerino? Oddio. Ora se non vuoi rispondere. No no. Tanto capisce ma non capisce anche se fosse. Perfetto. Oddio. In teoria no. Cioè non ho avuto la necessità di farlo. Anche con delle litigate che sono successe. Sì sì. Cioè lì per lì forse sì. Ma soltanto perché venivo da una situazione brutta. Cioè io mi sono scoppiata con l'altro ballerino non per volontà mia e neanche per volontà sua. Una situazione in generale con la scuola. Ok. Però. La scuola dove fate. Dove mi allenavo. Ok ok. Ah perché hai cambiato. Ok ok. Sì. Ok. Successo. Sì. Trascorso particolare. Troppi troppi casini. Ok ok. Vabbè magari non andiamo in fondo. No io ti no. No no certo certo. Per quanto riguarda la scuola invece. Cioè comunque tu prima hai parlato del fatto che ti va a prendere. Non rubare. A prendere tanto tempo comunque. Riesci a trovare tempo per studiare quanto basta o hai dovuto sacrificare anche quello? Allora il tempo lo devo trovare. Cioè per forza. Ovviamente la mia giornata tipica. Ecco giornata tipo. Giornata ok. Scuola la mattina fino alle due. Torno a casa. Mangio e alle tre e mezza parto per andare ad allenarmi e torno a casa che sono le otto. Dove ti alleni? Sempre qua a Ladispoli? No a Femicino adesso. A Femicino e ad Aprilia. Ah più vicino? Quanto ci metti in macchina? Vabbè mezz'oretta. 40 minuti. Niente insomma. Sì. E quindi no in teoria il tempo non ce l'ho perché. Ma ogni giorno così? Ogni giorno. Per esempio però. Alcuni giorni ce l'ho liberi. Ok. Venerdì e martedì. Tipo oggi. oggi. Oggi non mi allenavo. Infatti. Però volendo a venerdì mi posso allenare oppure no? Dipende. Dipende. Se vuoi o meno insomma. Sì dipende dalla situazione comunque. Che ora torni a casa più o meno la sera? 8. Alle 8? Sì. Madonna santa. Eh tosto è tosto un giorno. Ecco un giorno. Sai cosa? Io stavo pensando. Vieni a ballare. No. Basta parlare degli ospiti. Parliamo un po' di me adesso. Visto che non parlo abbastanza di me. Io volevo venire in Podcast Novus no? A fare l'ospite una volta solo per raccontare della mia giornata tipo e divantarmi delle cose che faccio. Ecco adesso non posso più perché c'è gente che fa le diciamo fa il supereroa insomma. Quindi per studiare il tempo lo trovi fondamentalmente i giorni in cui sei libera immagino. Quindi maggiormente martedì e venerdì. sì altri giorni proprio niente o ti metti tipo qui matti la sera la notte a studiare. Sì. Sì? Sì. Ma mia. Sì. Però diciamo che sono facilitata anche perché se devo studiare per un'interrogazione io ho il foglio. Ah è vero è vero. Quindi. Preprogrammati giusto? Sì. Ok ok. Eh beh quello è un dovere della scuola comunque aiutarti in questo senso. Sì come come già Marco scusa dalla leggea tu già ma ce l'hai per un altro motivo. Zitto. Comunque immagino allora che oltre alla danza tu in realtà non faccia nessun'altra attività esterna. Oppure sì? No non ce la farei proprio. Ma proprio per il tempo. Eh beh certo. Non ti va a prendere tanto tempo. Sì. Tanto davvero tutti i giorni. Ma scusa anche sabato e domenica. Allora domenica no. Domenica se non ho competizioni o se non devo recuperare altri allenamenti. Però sabato sì. Sabato. Sabato mattina o pomeriggio? Dalla mattina fino alle torno a casa che sono le cinque. Mamma mia. Eh tosto. Sì. Tosto. Qua abbiamo qualcuno che lavora tosto. Vero Gianmarco? Vabbè. Tutte queste battute su Gianmarco. Allora siamo arrivati finalmente. No finalmente no. Poi pare che non ci siamo divertiti. Io mi sono divertito tu. Io troppo. Siamo arrivati alla conclusione della nostra intervista. E come vuole la tradizione. Io non so. Tu a proposito hai mai visto una puntata nel nostro podcast? No. È male. Perfetto. Qua la gente viene e non vede le puntate. Ah ma me l'ha detto la Marano. Eh certo. Noi andiamo. Facciamo una tradizione. Una tradizione introdotta da me. Il domandone scomodo. Sei pronta? Come se tutte le altre fossero state. Io qua ho Wikipedia. Ok. Ormai chi ci segue da un po' tipo la mamma di Andrea lo sa. Lo sappiamo noi chi è. Io prenderò una pagina a caso di Wikipedia. Proprio generata. Silenzio. Proprio generata. E ti farò una domanda sull'argomento che uscirà. Oddio. Tu avrai quattro risposte possibili. Ok. Ma. L'obiettivo è proprio non farti indovinare la domanda perché così fai la figura. C'ha capito? Proprio cioè a caso. Sì sì sì. È una domanda. Cioè guarda io vado qua una pagina a caso. Mi esce una pagina e ti faccio una domanda su quella pagina. Chiaramente se entra in insomma in circolo ecco se esce fuori un tema che conosci là un po' si perde il divertimento. Sei pronta? Una pagina a caso. Eccoci qua. Ah parlando di sport. L'associazione calcio san maurese. Ah la giacca si parla di calcio. L'associazione calcio san maurese è un'associazione calcistica di san maurese. Hanno delle divise con un colore particolare. I colori che hanno le loro divise sono A. Giallo e rosso B. Verde e celeste C. Viola D. Verde. Non ha senso. Come non ha senso? Le divise? Come giocano le uniformi? Come si chiamano le divise? Ma che ne so. Devi tirare a caso. Chiaramente sbaglierai. Guarda qualcuno è riuscito a sopravvivere al domandone scomodo. Boh la C tipo. La C che era? La C era Viola. No non era Viola. Sì era Viola. Era vabbè. Vabbè Viola. Viola sei sicura? No. Sì dai sì. Sei sicura? Poi sì. Intanto non riesci a copiare. Signori mi dispiace. Hai sbagliato perché i colori sono giallo e rosso. Lo sai che lo sapevo? Cioè non è che lo sapevo però te lo immaginavo. Me lo immaginavo. Eh però facciamo silenzio non si riesce a lavorare. Abbiamo fatto un lavoro serio fino ad adesso. Scusa ok riprendiamo un attimo in mano la situazione. Mi dispiace sbagliato il domandone scomodo. Vabbè se la indoviniamo che vincevo. Ah niente. Non abbiamo premi. La dignità che ho perso. Sì sì ecco ecco. Però adesso purtroppo ragazzi è arrivata l'ora di terminare qua la nostra puntata. È stata una puntata seria oserei dire una puntata che specialmente mi è piaciuta come tutte le altre perché sono dirette da me me soltanto capo di questo progetto e della nostra scuola. Ringraziamo Lorrelai Barbuta per essere stata qua con noi. Ringraziamo Francesco che anche oggi per fortuna era assente. E niente ragazzi concludiamo questa puntata. Ci vediamo settimana prossima. Ringraziamo anche il team tecnico. Ci vediamo prossima settimana se saremo ancora vivi. Ciao ragazzi.